Siamo lasciati dal libro della barba e ci siamo a Detto Fatto 7, con una bianca guaccero straordinaria, vedrete, sarà un'edizione pazzesca, scoppiettante, conferma cos'è, è vero, è vero, ce lo dice anche il fattore del libro. Con quale spirito ti avresti ad affrontare questa nuova avventura considerando questo anche cambio? Sono molto contento perché Caterina è stata una scelta che ha voluto fare lei, quindi siamo tutti felici della sua scelta, è arrivata una nuova componente della famiglia, bianca, che tanto nuova per me non è perché ci ha fatto mille lavori al cinema, in televisione, al teatro, quindi sono contento di fare un po' il caronte nei gironi dell'inferno di Detto Fatto, perché quest'anno sarà molto caldo a Detto Fatto, tanto caldo! Motivo in più per seguirti, però nel frattempo ti dovrai incontrare, penso, questa avventura, vacanza, ma... Vavoriamo, vavoriamo. La sigla a Detto Fatto che sarà una canzone pazzesca, vedrete, sarà un sacco di novità.